Credo la domanda che venga mostrata dalla posizione legittima, cioè sentire un po' con quale è lo stato dell'arte, credo che le sollecitazioni ci mettono a poste, mettono la risposta e la questione. Io, francamente, per quello che mi convete, penso che sia doveroso confrontarci su questo argomento di sicuramente delle posizioni, e se la partita democratica negli ultimi mesi sono state già, noi non abbiamo nascosto, ma abbiamo avuto difficoltà, non, chiaramente, non attenevano nessuna questione di controllo, ma è appuntato a questo argomento anche perché abbiamo un po' l'amese di pensare. Su queste proposte deve avere una questione molto otterrata, vedo un'idea che è piuttosto attivoata, e cioè pensiamo che su queste, sulle cose che noi abbiamo ripensamente, aspettando tutte le cose, con il Consiglio Comunale, con l'ambito di maggioranza, con i confronti che abbiamo avuto, con gli italiani, con le associazioni, e con le similità cose, e quindi ho pensato che su questo, su questi argomenti, il sindaco deve dare comunque una risposta anche per fornire un attimo come si stanno a capire le cose. Non mi racconto che sono in atto delle statistiche per cercare, giustamente, di ricomporre e di ridurre l'accadeptica su dei dati che possano, quindi, concretizzarsi in una posizione in epoca. Quindi su questo, credo che sia giusto e opportuno, aprire la discussione, quindi, di giudato, e che noi, come partito del Torale, siamo qua per la portata, dobbiamo sentire anche noi, se non saranno le cose, qualsiasi segnali, che possono giungere, tanto più a loro. Io, in giro scusa, ho soltanto un ciclo, mi approfitto, dove potete simulare la mia solidarietà ad una giurale giornalistica, vabbè, della Dicatoria, di Dicatoria 2, che in tutti i ragazzi, in ogni momento delle medie che sono state scambiate, io apprezzo molto, e credo che, come me, il gran attimo del Consiglio Mondale della città, apprezzo dal lavoro che viene fatto, con tanta pazienza, da questi ragazzi che ci seguono, da me devo dire, con attività e con grande sforzo, nelle nostre recuperazioni. Io, credo che non sia giusto che a questa giornalista che ha posto delle domande prescite al miembro della Nazionanza, venga a rendere canti consigliati, cambiare, se la domanda non piace, non è giusto e non è rispettoso il lavoro che fanno questi ragazzi. Io, come prodotto il mio intervento, di nuovo ho finito, al simbolo che ha la maggioranza di attività, che ci sta a pesc contacto, la città, i pretenti a pescolo e che si è apprezzato il titolo desiderio del costume. Quindi, grazie consigliere, infatti per dà l'opportunità al presidente del consiglio Astillero di esprimere la meccanissima solidarietà che ha presentato il tesiere Reyes a una stimolista che è risultato con la dottoressa Lovasso. Io direi che bisogna continuare il dibattito e vorremmo iniziare se necessario. Allora io invito a prenotarvi per fare l'intervento consigliere Gran Mosca.